benvenuti bentornati e ben ritrovati nel mio canale anzi nel canale di chi tifa solo lecce oggi in questo video voglio non parlare di calcio mercato non parlare del lecce ma voglio fare i ringraziamenti voglio dirvi un grossissimo grazie anzi un grazie mille per questi mille iscritti al mio canale quando ho aperto il canale a dicembre vedevo questo piccolo traguardo lo vedevo lontanissimo e dicevo no non ci arriverò mai a mille iscritti comunque vado avanti perché è una cosa che voglio fare per il lecce per amore per il mio lecce e voglio portare sempre contenuti nuovi calcio mercato pre partita post partita live reaction live intervista ex calciatori del lecce con i miti giallorossi tantissimi tantissimi contenuti l'ho voluto fare per amore del lecce e per passione verso questo nuovo diciamo hobby e passatempo però oggi i mille iscritti sono arrivati e quindi vi volevo ringraziare tantissimo vi vorrei anzi ringraziare uno a uno e abbracciarvi tutti uno ad uno perché è solo merito vostro io adesso non mi voglio fermare sono arrivato a mille e voglio andare avanti quindi continuerò continuerò a portare sempre contenuti nuovi e porterò avanti anche i contenuti che facevo fino fino a ieri e fino a oggi con i mille iscritti lo sapete forse tutti si inizia anche ad avere un piccolo rimborso da youtube quindi perché no oltre alla passione anche riuscire a prendere qualcosina per cambiare le attrezzature migliorare le attrezzature microfoni cuffie computer qualsiasi cosa autofinanziarmi le trasferte per andare a vedere il nostro lecce qualsiasi cosa per migliorare il mio canale grazie di nuovo grazie mille e spero che questo mille possa diventare tanti altri mille e per questo mi serve il vostro aiuto quindi continuate a seguirmi e condividete il mio canale ad amici parenti a quello che volete a chi volete soprattutto anzi mi raccomando deve tifare solo lecce e se lo volete mandare magari a qualche rinnegatino salentino che tifa le strisciate condivideteli il mio canale che magari posso farli cambiare idea un grossissimo abbraccio a tutti i mille e tre iscritti al mio canale grazie 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 e forza lecce